Una giornata dedicata completamente al cuore per conoscere il suo funzionamento, come prevenire le malattie cardiocerebro-vascolari ed imparare ad agire in maniera tempestiva sulla salute del proprio cuore. Torna per la seconda edizione La Giornata del Cuore, manifestazione che anticipa la giornata mondiale del cuore che si terrà il 29 settembre, promossa dalla World Health Federation. A crema La Giornata del Cuore si terrà sabato 24 settembre in piazza Garibaldi, organizzata dall'Agenzia Miraglio in collaborazione con l'associazione Un Cuore per Amico. Saranno infatti allestite due aree distinte, una dell'associazione Un Cuore per Amico per lo svolgimento delle loro attività e una dedicata alla vendita di creazioni di artiste o biste realizzate con materiale di riciclo e riuso, tutti creati a mano. Ricco il programma ci saranno cardiologi e infermieri che insegneranno a valutare i fattori di rischio, importante la misura della circonferenza addominale e l'indice di massa corporea. Consigli e ricette per un'alimentazione corretta con la presenza della dottoressa in scienze della nutrizione, Mariella Amato, raccolta fondi a sostegno delle attività dell'associazione. Si terrà anche una passeggiata del cuore. Il percorso di quest'anno partirà da piazza Garibaldi, proseguendo per i giardini di crema raggiungendo la palata Menasciutto lungo il fiume Serio e successivamente il percorso l'ascito Chiappa. Ritorno sempre in piazza Garibaldi dopo un percorso di sei chilometri. Sarà presente anche l'artigianato dal cuore, mercatino artigianale creativo in cui le artiste venderanno bigiotteria realizzata con diverse tecniche, accessori, moda oggettistica e legno e alcuni pezzi che per l'occasione sono stati creati appositamente per la manifestazione a forma di cuore.